Allora, oggi se viene la Commissione Electorale Comunale composta dal Sindaco, dal Consigliero San Valuo, dal Consigliero Cattolino e dal Consigliero del Proviso. Torniamo a provare dal sorteggio per gli scutatori per le elezioni regionali che si è anche più ultimamente 2013. Assiste con il voto di segretario della Commissione il Dottor Giorgio Arnaziano. Posca Moro, possiamo procedere. 1.964 1.964 1.964 1.964 1.964 1.967 Grazie. 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 Nini, Anna Matia. Cambiate il passo. 12, che dai, 1, 2, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8. 22, 62. 22, 62. Annetta Vincenzo, Policolo, 26, 8, 8. 26, 72. 26, 72. San Sol Antonietta. Per la Pesicci, 9 marzo, 1249. Nenti, 40, 7. Annetta Vincenzo. 432. Caruso, Francesco Antonio. Annetta Vincenzo. Sì, 25, 72. Non si può essere. Non c'è quello che ha fatto. Sì. No, ma non è bello. Per la Pesci. Per la Pesci. Per la Pesci. Per la Pesci. 2797 Simone Giampaolo Altamura 12 gennaio 1927 29 29 30 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 31 30 31 31 31 31 32 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33 33 33 3901 3901 4901 3902 4902 4902 5902 5902 Gino Di Leo Gino Di Leo Da Regna a Mielosera, Cisci, 18 maggio. Sono Mielosera, Mielosera. Mielosera. Diciannove, diciannove. Quindi non c'è il coso. Diciannove, diciannove. Non crese un piede, 19 a 15. 12.43 24.33 24.£3 13.4 14.3 15.Sí Cambita Matera 29 13.4 14.3 Grazie. 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 Trecento di ciò. Grazie. 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 Stilardi Emanuele. Ho riposo. 6 aprile 1290. 34. 318. Qui c'è da 40. Di Gianni mi chiede una sera quattro dicembre e mi devo andare to senza apposta. Non è wieder. Anche i giorni evidenti. Sì. L'estruzione non avreple di questo. Sì. Potremmo avreple. 605 rocce da via Domenica Catantina 4 rocce di noi 18-90 Maggiotta Antonio 22-90 Pasquale Marietta 10-90 10-90 10-90 Sanca Camilla Marietta dei massimo � 760 abbiamo dei massimo Grazie. 15. 11.08. 16. 16. 16. 16. il sangue varieva nega gli 15-15 gennaio dell'ingegno di santa è un'altra per una certa per una certa per un'altra per un'altra per un'altra per un'altra per un'altra per un'altra servici di nuova una 6 un'altra una 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 Locantore Giovanisca, IC7-09-27. 642. D'Alessandro Elena, Adela, 13 luglio di 177. 13 o 18, quindi 300 o 18. 13 o 18, quindi 300 o 18. Contoro e 2 giugno di 161. 19 o 18. 15. Marcolino, Marcolino, Nicola. Fondarmano Ionido. 752. 764. 146. 116 116 Bellino Maria 135 al 1 135 al 1 evitiamo i commenti ma in generale se fossero a partire il decalcio 155 al 1 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 899? Sì. Vivo di Pierina. Di Sticci, 31 maggio, 1960. Senti, 480. Senti, 480. Senti, 480. Grazie. 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 118. Auretta Pomenica, con il cuore 21 gennaio 1977. 56. 16. 17. 18. 19. 19. 17. 13. 13. 14. 13. 14. 15. 15. 15. 13. Grazie. 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 Grazie.